Lavori? 3, morto Ragazzi c'è il casco lì, lo vedete? Di chi è il cecchino? Dimitri, andiamo da qua Vai apri un barco Andiamo da prima no? Fiamo un giro Giro grosso Zitto Zitto C'è qualcosa qua in mezzo Dimitri C'è Kino regà Andiamo regà andiamo andiamo Volevi Volevi Guardalo Come non se l'aspettava No Guardali 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 Uno Due Tre Passiamo il fucile Passiamo il fucile Guardali 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 oh serio ti ho detto io che mori ragazzino rega qui davanti eh davanti Joe dove è morto lui è morto è morto eccolo Joe davanti a sinistra subito sta attento lì dico che c'è morto uno non vi sono che si è spostato da destra a sinistra quello spazio davanti a te non c'è chi lo si è spostato rega la fine dove sei preso te a cappa con una pistoletta che faccio se sono spostati i cecchini è qua scusa andiamo a aiutarlo dietro Joe stiamo arrivando occhio a destra io ho sentito da sinistra senta a sinistra ho sentito un pallino attento attento siamo a morto di sinistra che stanno Joe? dietro quest'arbero avanza avanza a destra Dimitri qui a destra ci sta qualcuno non ci abbiamo nessuno dei nostri oh dove? vieni 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 no no corri 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 io non capito uno noi vediamo se stanno di passo occhio a destra eh? ci stanno? allora oh vieni qua io controllo dritto a sinistra te controlli a destra ciao ciao Paolo eh un pochettino qua copri a destra se ci stanno bravo andiamo occhio eh destra la bandiera dov'è? sta lì davanti a noi sinistra dimitri sta sopra sta sopra mi sta a puntare dove? non lo so sta sparando alla bandiera sta qui sopra quasi devo trovarlo Joe dimitri fuoco di soppressione alla fontana alla fontana destra sta sopra io qui dove sono ? tutti qua adesso facciamo già si cazzo a radio dove sei? eh si se ci viene qua c'è la mano vieni qua Gio è libero? si c'è Gio natan qua qua sta qua dietro 2 sparate e avanzate regà lì davanti dove sta lui andiamo andiamo avanzate avanzate 1 vai avanza 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 qua spara qua in mezzo qua in mezzo stiamo sicuri stai è stupido presa ci ha messo tipo una vita stavo per scattare io oh Gio perché mi sarebbe sparato quello e se c'era un fucile d'assalto era troppo di no oh madonna ah Gio stavo per scattare io dai vabbè dai comunque è andata bene bello sta capino meglio da una pistoletta che stavo per scattare io dai che stavo per scattare io dai poi ti stavo per scattare io dai mi sape io da un luogo di no ma mi pare Grazie a tutti